La giunta regionale della Campania ha approvato nelle ultime ore un importante pacchetto di interventi in campo idrico, ad hoc per la città di Benevento. Misure che erano state annunciate già dal vicepresidente Bonavitacola, che aveva preseduto da remoto una riunione con il sindaco Mastella, Gesesa, ed ente idrico campano, quando la scorsa settimana nel capoluogo Sannita era scattato l'allarme tetracloroetilene nei Puzzi, che servono gran parte della città. Fondi e misure per un depuratore di ultima generazione ai carboni attivi e nuove condotte per attingere acqua dalla Valle Telesina. Siamo riusciti ad ottenere il piano dei carboni attivi che appunto è finalizzato da 4 a 9, tengo a precisare questo, per il filtraggio dell'acqua che pare essere, lo dicono i tecnici, un problema di natura risolutiva e definitiva. In ogni caso abbiamo ottenuto anche un finanziamento importante per il piano di caratterizzazione e la Regione, sempre nel pacchetto di misure, ha anche avviato la procedura per i lavori delle nuove condotte di solo pacca che dovranno poi portare acqua in città. Una sinergia istituzionale senza precedenti che in tempi record ora cerca di risolvere un annuso problema per la città di Benevento. Ringraziamo di questa collaborazione istituzionale la Regione, la buona politica, si assume la responsabilità, avverte il peso del ruolo che ricopre e cerca di fornire le risposte più adeguate possibili.